Direi che qualcuno mi ha contattato. Dopo la promozione in A1, già nuovi possibili sponsor hanno preso contatti con il Fenza Basket Project. Dopo la festa per la vittoria del campionato e la conquista della massima serie, è già arrivato il momento per la società Fentina di impostare la prossima stagione. L'A1 sarà un campionato notevolmente più dispendioso sul campo e a livello economico. Dopo nove anni, Fenza è tornata fra le migliori società della pallacanestro femminile. È innegabile che per poter disputare la stagione, per poter ottenere gli obiettivi prefissati, la salvezza del primo anno per poi inseguire un continuo miglioramento e le annate successive, sono necessari investimenti che difficilmente l'attuale società potrà permettersi con le proprie sole forze. La squadra avrà bisogno di innesti importanti, la società dovrà maggiormente strutturarsi, la 1 stessa a costi molto più elevati. Mi ha fatto a parte il main sponsor e work, devo ringraziare sempre e comunque per la vicinanza che ci ha dimostrato anche in questi anni e quest'anno in particolare. Ancora prima di iniziare i play-off, loro ci hanno confermato la loro presenza anche per il prossimo anno, indipendentemente da dove saremmo arrivati, quindi questo fa molto onore e mi rendo orgoglioso di questa cosa. Qualche nuovo sponsor si è fatto avanti, i vecchi si sono fatti avanti pensando magari di incrementare, quindi speriamo bene. Poi mi auguro che qualche altro imprenditore Fentino si accorga che il basket femminile a Fentino è una cosa importante e fatto con molta passione e che possa essere motivo di investire qualcosa anche nel femminile. Nelle settimane scorse è stata poi avanzata l'ipotesi di abbandonare il Palabubani. Io spero vivamente di poter giocare al Bubani perché è la dimensione perfetta per la femminile e perché veramente al Bubani non si passa, tutti fanno fatica da anni a vincere al Bubani e questo deve essere il nostro punto di partenza. Il Palabubani lo riempiremo a prescindere, voglio dire. Stiamo iniziando a ragionare magari per creare qualche evento di intrattenimento nell'Arc durante magari l'intervallo tra primo tempo e il secondo o qualcosa del genere. Tutto da pensare proprio legato al discorso che dovremo riorganizzare la società quindi con l'ingresso di nuove persone, nuove idee e quindi benvenga qualunque idea che possa pubblicizzare e migliorare anche l'aspetto del pubblico e dell'immagine della società.